Farsi vicino agli abitanti del quartiere, non solo dal punto di vista religioso, ma anche e soprattutto dal punto di vista umano. E questo è l'obiettivo che si sono posti gli giovani scout della Gesci Gela 3 della parrocchia San Giacomo Maggiore della città. Abbiamo avuto l'idea di offrire, di creare un punto di aggregazione per i ragazzi e i bambini del quartiere, in modo tale che essi potessero avere un punto di incontro in cui riprendere i contatti dopo questa pandemia che un po' ha interrotto tutte le relazioni tra i ragazzi. Appoggiati dai responsabili del gruppo scout, dal parroco padre Luigi Petralia e dal vice parroco Don Daniele Centorbi, i ragazzi stanno lavorando a pieno ritmo per poter inaugurare, entro i termini stabiliti, un'area in cui tutti i giovani del quartiere, indipendentemente dalla religione, i sacramenti ricevuti e l'estrazione sociale, possono ritrovarsi e creare rapporti da amicizia sani. Un porto sicuro per sfuggire alla micro delinquenza e dal bullismo. L'impegno della Chiesa è proprio quello di formare l'uomo nella sua totalità, l'uomo non è soltanto anima, è un'unità di corpo e di anima, per cui tutto ciò che riguarda l'uomo è interessato alla Chiesa, per cui anche quella povertà, quella povertà diciamo culturale che alberga nei nostri giovani, in particolare c'è questa apatia a volte della cultura, ecco la Chiesa si impegna perché il ragazzo si possa formare anche a livello culturale. La parrocchia ha messo loro a disposizione una stanza dei locali parrocchiali, a cui poter accedere già dalle prime ore pomeridiane. Una piccola libreria è stata creata riciclando delle casse di legno, messe a nuovo e dipinte di un bel verde vivace, il colore della speranza. L'impresa che stiamo portando avanti come gruppo scout a Gesci Gelatrè e in particolare come clan dello Scarpone, cioè la branca dei giovani della comunità scout, può essere illustrata attraverso l'immagine del buon samaritano, quella riportata nel Vangelo, secondo la quale quest'uomo samaritano appunto si piega sulle ferite delle persone che incontra lungo il cammino. E noi attraverso un'analisi abbiamo individuato come possibile ferita dei giovani della nostra società, della nostra città, ma soprattutto del nostro quartiere, la mancanza di una biblioteca e quindi la mancanza di strumenti per fare modo di potenziare anche questo aspetto intellettuale, intellettivo, che viene alle volte messo da parte. La parrocchia San Giacomo, che da sempre ha mostrato particolare sensibilità alle tematiche sociali e alle iniziative volte ad aiutare gli adulti del domani, ospiterà stasera alle ore 19 una conferenza dal titolo Generazione Sospesa, a cui potranno partecipare oltre ai ragazzi, diretti interessati, educatori, formatori, insegnanti, genitori e catechisti. Sì, ormai è da tempo che pensiamo come gruppo scout di organizzare una conferenza di questo genere con la collaborazione del dottor Giuseppe Raffa, pedagogista, coordinatore dell'ambulatorio anti-bullismi dell'ASPE di Ragusa, esperto in problematiche giovanili legate ai bullismi e ai rapporti tra genitori e figli. Noi abbiamo a che fare con i giovani, con i ragazzi, per cui serve senz'altro maggiore competenza dal punto di vista pedagogico, serve un intervento un po' più specializzato, un intervento un po' più particolare rispetto agli anni precedenti. Grazie.